XM l'encoding uguale UTF, 8. Le polemu. I che suschio fisono scoppiate con l. A forza di un ciclone punto il rapper esta. Toso speso in giudizio in puntata, di. All'insegnante di canto Rudi Zerbi. E verrà a conoscenza dell'esitode. Fida chi lo vedi contrapporsi. Un altro cantante solo tra un'ase. Ti mano appunto alcuni telespettatori, i. Intanto, contestano chi è da Micines. Gli ha fatto presente che le can. Zoni del rapper Siano compromette. T, dove addetta degli stessi con. Tatori la donna sembra essere o. Misoginia, per via deites. Pone allusioni sessuali e allavi. Lenza sulle donne. La tua tipapi. E donna si mi sembra una focanels. Che mi prende il pesce a battele. Anisile Jane King del Trash, S. Dal rapper finito in sfida ad. Mici punto nel testo di Yolandi, S.E.M.P. Reschio ficanta. La sbatto contro. Il muro, tolgo il fondotinta con l'A.F. Dei miei schiaffi. Non parla. Tutta cagna che da oggi sono un ca. Che io punto non mi hai mai voluto dar. Il cro, adesso me lo prendo, porco. D.O.S.H.H., dormi adesso che è tutto fi. Mito continua dopo la Fogtoskiof. I, non rispondi alle polemiche, S.E.M. Persi integrato bene con Isuo. Compagni. Il rapper ha taggato N.E.L. Le suestori e alcuni dei protagoni. Di quest'edizione parliamo di O.Pottonello, Francesco Berto Lì è Federico Pietrucci, a Condiv Iso una foto di gruppo e non ha fatto Inimamente cenno alle polemiche S. Cluse in rete. A Espor si è stata inve. C'è la pagina ufficiale dei FanDelka. Tante che ha citato tanti pezzi link. Sono scritte strofe molto pesante. A che nessuno ha però criticato fi. Ora punto continua dopo la foto sull'ast. Essa pagina si legge che è Stasiraki. Gestisce presumia Mononskiof. E non dovrebbe poter parlare del E che relative al talent show. O pia dirà qualcosa in merito a ciò che è Procedendo in quest'eore punto albume. Non possiamo dirvi nulla di cert. O su ciò che accadrà è schioffi ed amic. E perché la produzione non si è espos. Tassul Rapper è probabilmente l'Ofar. Il prossimo venerdì durante la reg. Istrazione punto continua dopo la foto. E solo per calmare gli animi Cap. Potrebbero accendersi ancora di più. Cantante entrerà nella scuola app. Inizio a tutti. Inizio a tutti. O Inizio a tutti.